Buon pomeriggio, ben trovati da Lucia Renati e da tutta la redazione a questo appuntamento con Icaro Tg Pomeriggio con le notizie aggiornate a quest'ora. Andiamo allora a vedere sempre con il supporto del nostro sito newsremini.it quali sono le novità di queste ultime ore, visto che la nostra mattina insieme comincia dalla rassegna stampa alle 7.30. Vediamo ad oggi, a questo momento, che cosa è successo. Allora, una panoramica delle notizie che abbiamo in home page. Contatto tra veicoli in fondo alla rampa, auto si ribalta sulla statale 16, quindi traffico congestionato. Poi entreremo nel dettaglio. Poi ancora, quasi 250.000 interventi del 118 in Emilia-Romagna. La regione stanzia 46 milioni, 5,3 per l'Ausl-Romagna. E poi in primo piano abbiamo il basket, RBR, i due obiettivi di Maggioli, serie A1 e gestione della nostra casa. Perché ieri c'è stata la presentazione della stagione sportiva, appunto, RBR al centro congressi SGR dal titolo effetto rinascita. E anche su questo vedremo un servizio approfondito. Allora, andiamo a iniziare dalla notizia dell'incidente che c'è stato. Ieri, intorno alle 14.30, c'è stato un incidente, per fortuna senza gravi feriti, sulla statale adriatica a Rimini, all'altezza del cavalcavia sulla Marecchese. Una Citroën Saxo procedeva in direzione sud, in discesa all'altezza dei Padulli, ha avuto un contatto con un SUV che si metteva nella corsia laterale, si è capottata. Il conducente è uscito da solo, il leso, dall'abitacolo e il leso anche l'altro conducente, la cui auto ha riportato solo una strisciata sulla gomma posteriore sinistra. Sul posto sono intervenuti il 118 in via precauzionale, la polstrada e i vigili del fuoco. Vi sto facendo anche vedere la carrellata di foto che abbiamo pubblicato sul nostro sito newsremini.it. Foto dell'incidente, durante le operazioni è rimasta aperta una sola corsia e con la conseguente congestione del traffico. Adesso quasi 250.000 interventi del 118 in Emilia-Romagna, oltre 46 milioni di euro per sostenerlo. Vengono dalla regione 1,5 milioni in più rispetto al 2022. Di questi 5,3 arriveranno all'Ausl della Romagna. Dal 1 gennaio al 30 giugno di quest'anno sono stati 246.165 gli interventi d'emergenza. Il 118 è nato proprio in regione, proprio nella regione Emilia-Romagna, a Bologna, e poi è diventato un modello per l'intero paese. Il 118 è un numero che può salvare la vita, è un sistema complesso e organizzato per funzionare al meglio e per intervenire nel più breve tempo possibile. E bisogna anche saperlo usare nel migliore dei modi e non sempre lo facciamo. Adesso andiamo a parlare della giornata di oggi, che è una giornata epocale, se vogliamo, per Rimini. Perché? Perché oggi è la giornata clou per quanto riguarda la candidatura di Rimini Capitale della Cultura 2026. Perché questa sera, mercoledì alle 18, al Teatro Galli, ci sarà proprio la cerimonia di presentazione con l'invio del dossier di candidatura al Ministero. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta proprio da noi, qui su Icaro TV, sul canale 18. Dalle 19.30 ci sarà la festa nelle piazze con musica dal vivo, danza, musei e negozi aperti. E infatti vi annuncio anche che l'edizione di questa sera del telegiornale avrà forse qualche minuto di ritardo se la cerimonia si prolungherà. Altrimenti tutto normale, tutto come al solito. Dicevamo appunto dalle 19.30 la festa si sposterà poi dal Teatro Galli alla piazza, al centro storico, con tutte queste iniziative. Questa mattina Cristina Carlini, che è la direttrice artistica di Rimini Capitale della Cultura, insieme a Francesca Bertoglio, ne ha parlato alla nostra trasmissione Temporeale. Sentiamola. Oggi Click Day si consegna al Ministero. Ricordo che quello che consegniamo è un documento di 60 pagine, noi tanto lo renderemo pubblico. Non è proprio un romanzo, non si legge così facilmente, è un documento un po' tecnico, quindi non vi spaventate se alcune cose non sono di immediata comprensione, ma deve essere così. Una giuria, quindi una commissione scelta appunto di tecnici scelta dal Ministero lo analizzerà, insieme a quelle delle altre 25, siamo 25 in tutto, delle altre 24 città. Entro Natale verranno nominate le 10 finaliste. Le 10 finaliste hanno un'audizione pubblica al Ministero che avverrà entro marzo e poi subito dopo si nomina la vincitrice. Ci sono due elementi che sono proprio caratteristici di Rimini e che secondo me comunque pongono i dossier in maniera particolare. Diciamo, sarà la cosa che sicuramente lo farà interpretare come originale rispetto ad altri che avranno altre originalità. Uno, la scelta di puntare su le nuove generazioni. Finora, in tutte le capitali precedenti, sono stati considerati come un destinatario, quindi come un target di pubblico con cui fare attività. Non si è mai scelto così fortemente come nel dossier di Rimini di metterli al centro anche come produttori di contenuti. Quindi questo sicuramente è un elemento molto caratteristico e questa scelta se ne lega in un'altra, cioè che questo è un dossier che guarda proprio al futuro. Il dossier si apre con un contributo originale scritto da un grande scrittore del territorio e questo contributo sarà letto. La parte delle 18 avrà una serie di svelamenti su che cosa c'è nel dossier, quindi racconteremo anche alcuni dei progetti. Mentre poi ci proprio divertiremo per tutta la sera, la città sarà invasa letteralmente dalla musica, dalla danza, dalla performance, in tutte le sue forme. Perché ci saranno musiche di ogni tipo che racconteranno un po' la storia del territorio, da gruppi di Rimini e della Romagna, al jazz, a altre situazioni più contemporanee e c'è anche la shopping night. Quindi visite guidate e i musei aperti, quindi è veramente una serata anche un po' di fine estate per riviversi la città. E allora noi vi aspettiamo, vi aspettiamo in piazza, ma vi aspettiamo anche su Icaro TV, sul canale 18, perché ripeto manderemo in onda la diretta dal Teatro Galli dell'invio del dossier per quanto riguarda la candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026. Andiamo avanti dal nostro sito, il colonnello Rugge si presenta pronto per Rimini, cercherò di rendere reale la percezione di sicurezza. È il nuovo comandante dell'arma dei carabinieri, Ruggero Gerardo Rugge, 46 anni, di origini salentine, è stato presentato ieri e ha incontrato noi i cronisti. Sentiamo. Ho lavorato per circa dieci anni nella provincia di Milano, come comandante di compagnia nell'Interland e poi seguendo l'attività investigativa del comando provinciale di Monza, come comandante del reparto operativo. Quindi le sfide mi affascinano. Il territorio della provincia riminese, in particolar modo durante il periodo estivo, diventa anch'esso un'ottima palestra. Cercherò nel mio piccolo di dare un'impronta anche all'attività operativa da svolgere sul territorio con i reparti a disposizione. Ritengo che l'obiettivo fondamentale della nostra organizzazione e anche delle altre forze di polizia, ad oggi, un periodo in cui stiamo vivendo una stagione caratterizzata da fortissime tensioni sociali, che sia il nostro impegno debba essere indirizzato soprattutto a rappresentare per tutta la collettività una presenza rassicurante e tangibile. Quindi reputo sia questo l'obiettivo principale da perseguire per la nostra organizzazione. Ecco, abbiamo conosciuto e sentito il colonnello Ruggero Gerardo Rugge, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini. Andiamo avanti sul nostro sito newsrimini.it. Andiamo al CIGEP, che ancora ovviamente non c'è, quello del 2024 sarà il 20 gennaio, ma la fiera è quasi sold out a oltre tre mesi dall'evento. La 45esima edizione del CIGEP, organizzato da Italian Exhibition Group, che sarà dal 20 al 24 gennaio prossimi, è già sold out perché a oltre tre mesi dall'evento è già stato venduto il 90% degli spazi espositivi. Andiamo ancora avanti dal nostro sito newsrimini.it per parlare di scuola, scuola e disabilità, altri 2 milioni per il sostegno di alunni fragili stabile, l'educatore di plesso. Qui siamo a Cattolica, dove appunto arriveranno altri 2 milioni di euro per il sostegno di alunni e alunne fragili. Il comune di Cattolica ha assegnato tramite bando la gestione del servizio di sostegno all'inclusione scolastica al Consorzio Blu, che è cooperativa sociale, per il prossimo triennio. Fino al 31 agosto 2026. E poi c'è anche un'altra notizia, ovvero la stabilizzazione della figura dell'educatore di plesso, che sarà sempre presente. A proposito di educatori, a volte se ne trovano per fortuna anche sui social e in questo caso poi appunto è bello anche incontrarli. Erano in tanti e di tutte le età, sabato sera a Morciano, ad ascoltare Don Alberto Ravagnani, che è stato ospite della festa parrocchiale. Il tema dell'incontro in cui il Don Influencer ha coinvolto anche i ragazzi del suo oratorio Brianzolo è stata la ricerca della felicità. Sentiamo. Abitare le strade, gli oratori, le chiese e pure la rete, anche quella una grande piazza dove poter incontrare i giovani e provare ad intercettare le loro domande. Don Alberto Ravagnani ha deciso di starci nella complessità e nelle contraddizioni dei social media, senza temere neanche i dissing con Fedez, mosso dal desiderio di raccontare il Vangelo e la sua bellezza. Il giovane Don Brianzolo, con oltre 150.000 follower su Instagram e 90.000 su TikTok, è stato ospite insieme ad un paio di ragazzi del suo oratorio della parrocchia di Morciano in occasione della festa parrocchiale e ha parlato di felicità. Oggi i ragazzi rischiano di non essere felici perché troppo spesso non ci sono condizioni necessarie per questo. Viviamo in un mondo che vive una pesante crisi globale, un ambiente che sta collassando, problemi economici, i pazzi che decidono di fare le guerre. Viviamo in un mondo in cui gli adulti sono sempre meno credibili e vivono con la nostalgia di quando erano giovani, quindi non offrono ai ragazzi dei modelli di vita compiuta. Viviamo in un mondo in cui i ragazzi sono vittime di attese sociali, dalla mattina alla sera sono quasi in qualche modo costretti per via dei social a corrispondere all'attesa di tutti gli altri. Il vero problema è che al mondo non importa il tema della felicità dei ragazzi. Sì, fondamentalmente le persone felici sono persone che sono degli errori di sistema dentro un mondo che ruota attorno al denaro. L'economia oggi non è fatta per la felicità delle persone, è fatta per i loro piaceri e quindi riempiamo le persone di piaceri che vanno comprati. Le persone felici in realtà sono quelle che non hanno bisogno di niente, quindi non consumano. E quindi fondamentalmente risolvere la radice, il tema della felicità, questa cosa non interessa a chi sta controllando il mondo. Però noi siamo fatti per la felicità. Allora credo che la Chiesa, in un certo senso, opponendosi in maniera radicale al mondo, abbia il dovere di occuparsi innanzitutto di questo, della felicità vera delle persone. La felicità è la capacità di essere generativi, di dare al mondo se stessi, i talenti, le passioni, le emozioni, le relazioni, generare bene attraverso il bene che Dio ha messo dentro di noi. Adesso andiamo a San Giovanni in Marignano perché il Teatro Massari ha presentato la stagione teatrale a cura del Teatro Europeo Plautino. Sono 15 spettacoli, si parte il 14 ottobre. Sentiamo. 15 date da ottobre ad aprile tra teatro classico, contemporaneo, ma anche clownery, oltre alle mattine con le scuole e agli appuntamenti per le famiglie a cura di nata teatro. A inaugurare la stagione del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano sotto la direzione artistica di Cristiano Roccamo, sarà il 14 ottobre lo spettacolo Diavoli, monologo comico tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Nori, scritto e interpretato da Oscar Genovese per la regia di Giampiero Solari. Uno scrittore in crisi riceve la visita inaspettata di un clan di diavoli scese sulla terra per reclutarlo. Il 28 ottobre, Made in Terra, solo di clown, die con Mening, con la collaborazione artistica alla messa in scena di Olivier Roy. L'11 novembre, L'uomo è un animale feroce, è da Nino Pedretti, di cui ricorre il centenario della nascita, finissimo poeta dialettale sant'arcangiolese, ma anche grande autore in lingua italiana. I testi, presentati in questo spettacolo, composti per Radio Rai, non sono mai andati in onda. Il 9 dicembre, Dancing, balere con la S pesante, commedia brillante sul mondo delle balere. Il 13 gennaio, Le relazioni pericolose, tratto dall'omonimo romanzo settecentesco che creò scandalo, la regia di Francesco Branchetti, con Corinne Clery. Il 20 gennaio, La mandragola da Niccolò Macchiavelli, capolavoro del teatro comico italiano del Cinquecento. Il 2 marzo sarà la volta dell'anniversario, una black comedy di Gianluca D'Agostino con Agostino Chiumariello. Il 16 marzo, Gramscik, Diecon, Paolo Cioni, Daniele Marmi, Guglielmo Favilla, tre volti noti della serie TV I delitti del Barlume, sotto la consulenza artistica di Silvio Peroni, sono impegnati in questa satira contemporanea. 23 marzo, Promessi, ovvero i Promessi Sposi, regia e drammaturgia di Luca Radaelli e Beppe Rosso, la vicenda di Renzo e Lucia raccontata ai loro figli in flashback. 6 aprile, anfitrione di Tito Maccio Plauto, tragica commedia che grazie al gioco del doppio e dell'inganno crea pura comicità. Si conclude il 20 aprile con Che aspettate a bruciarmi? di e con Giorgio Castagna, regia di Giuliano Bonanni, sull'incrocio tra la vita dello scultore Giordano Bruno Castagna e quella del filosofo Giordano Bruno. Andiamo adesso a parlare di calcio. Dal nostro sito newsrimini.it nella sezione sport, 701 biglietti per il settore ospiti staccati finora per il derby Cesena Rimini di domenica. Quindi già 701 italiani per il settore ospiti venduti ai tifosi biancorossi per la partita di domenica 1 ottobre all'Orogel Stadium di Nomanuzzi. Calcio d'inizio, ve lo ricordo, alle 16.15. I residenti della provincia di Rimini potranno accedere solo al settore ospiti curva ferrovia, i cui italiani resteranno in vendita fino alle 19 di sabato 30 settembre. Se andate su questa notizia sul nostro sito trovate tutto, anche appunto il prezzo dei biglietti e i link per le prevendite e tutto quanto, anche l'elenco dei rivenditori autorizzati. Adesso andiamo a parlare di basket perché è stata presentata ieri sera la stagione sportiva 2023-2024 dell'RBR al centro congressi SGR, il titolo è Effetto rinascita. Il presidente di RBR, vedete anche qui dal nostro sito newsrimini.it, trovate questa notizia con le interviste. Il presidente di RBR Paolo Maggioli fissa due obiettivi, la conquista della 1 e la gestione del Flaminio. E coach Mattia Ferrari promette di realizzare i suoi sogni, quelli della squadra e anche quelli dei tifosi. Anche quest'anno abbiamo soci nuovi importanti, sponsor importanti che si aggregano a questa iniziativa. Quindi questa obiettivamente è la cosa che ci convince a continuare ad andare avanti e che ci fa sognare e immaginare un obiettivo che sappiamo tutti qual è, non ce lo diciamo ma sappiamo tutti qual è e prima o dopo di poterlo raggiungere. Noi abbiamo un sogno poi che assieme a quello della massima divisione che è la nostra casa, poter gestire la nostra casa. Su questo c'è un'interlocuzione molto importante con l'amministrazione che ci sembra stia capendo qual è la nostra intenzione, qual è la nostra idea, che non è un'idea speculativa ma è un'idea di davvero dare al popolo del basket la casa che si merita perché quello è davvero l'obiettivo degli obiettivi. Il Sole 24 Ore ha classificato la provincia di Rimini al 17esimo posto in Italia per indice di sportività e rispetto alla classifica dell'anno scorso, visto che di classifica qui dovremo parlare, abbiamo recuperato ben 11 posizioni. L'RBR rappresenta questo per la città e la cartolina è una bella cartolina da vedersi in giro per l'Italia. Abbiamo già fatto molto, sono convinto che questa stagione sarà un altro turning point per la crescita della pallacanestro a Rimini di tutto quello che è questo progetto e sono assolutamente convinto e lo garantisco io per tutte le persone che sono su questo palco non solo, penso che sia scontato, la serietà, l'impegno e il senso di appartenenza ma il fatto che noi otterremo dei risultati assolutamente in linea con i vostri e con i nostri sogni. Ho sentito parlare della fortitudo ma noi iniziamo il campionato domenica a Piacenza e per noi domenica a Piacenza forse siamo un po' indietro, non siamo ancora prontissimi, non lo so però questa è una squadra matura, una squadra esperta, abbiamo scelto giocatori abituati a fare queste categorie e non a farle da comparse ma a farle da protagonisti e quindi noi già da domenica dovremmo fare una promessa ai nostri soci, ai nostri sponsor, a tutti i tifosi che sono a casa, ai nostri quasi 1500 abbonati che ci hanno dato una fiducia cieca, dobbiamo promettere di onorare al 100% quella divisa, quell'uniforme e dare tutto quello che abbiamo dentro perché Rimini come vi ho sempre raccontato vive di pallacanestro ama la pallacanestro e ci sosterrà in tutti i modi. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, vedete mercoledì 27 settembre tempo stabile con cielo sereno su tutta la regione, temperature senza variazioni di rilievo previsti i valori massimi tra 25 gradi dei settori costieri e 26-28 gradi dell'entroterra andiamo a vedere il dettaglio su Rimini, come vedete anche il pomeriggio sarà soleggiato come la mattina e anche la sera sarà piuttosto serena senza foschie, sulla costa le temperature sono tra i 25 e i 22 gradi sui rilievi tra i 21 e i 18 gradi, il sole oggi è sorto alle 7.02, tramonterà alle 18.57 è davvero tutto per noi, vi rimando all'edizione di questa sera alle 19.15 e 20.15 e vi auguro un buon proseguimento di giornata